Del rapporto con i libri, 1907. Un elenco di libri che sia assolutamente necessario aver letti e senza i quali non si dà salute né cultura, non esiste. Vi è invece per ogni uomo un notevole numero di libri nei quali proprio lui, quel singolo uomo, può trovare soddisfazione e godimento. Perfetto, scoprire via via questi libri, intrecciare con essi un rapporto duraturo, possibilmente appropriarsene a poco a poco fino a renderli uno stabile possesso estrinseco ed intrinseco, sostituisce per ogni singolo un compito particolare e personale, che egli non può trascurare senza restringere sostanzialmente la cerchia della propria cultura e delle proprie gioie, e con ciò il valore della propria esistenza. Così come non puoi avere imparato a conoscere da un manuale di botanica l'albero o il fiore che prediligi, allo stesso modo non potrai conoscere o scoprire i tuoi libri preferiti in una storia della letteratura o in un saggio teorico. Solo chi si è abituato ad essere quanto più possibile consapevole dello scopo specifico di ogni azione della vita quotidiana, ed è questo il fondamento di ogni cultura. Potrà ben presto, anche se all'inizio non si dedica che a giornali e a riviste, imparare a far uso delle leggi e dei criteri essenziali riguardanti la lettura. A determinare il valore che un libro può avere per me, non ha praticamente alcun rilievo che esso sia famoso o di moda. I libri non ci sono perché per un certo tempo tutti li leggano e vi trovino un tema di conversazioni mondane, e poi li dimentichino come l'ultima notizia di sport o di cronaca nera. I libri vogliono essere goduti e amati con calma e serietà. Solo allora si sveleranno le loro intime bellezze e virtù. È sorprendente poi come cresca l'effetto di molti libri quando li si legge ad alta voce. Questo dovrebbe valere tuttavia solo per le poesie, i bravi racconti, i saggi concisi e formalmente perfetti e cose simili. Una buona lettura ad alta voce di testi che vi si prestino è sommamente istruttiva, in quanto acquisce la sensibilità per il ritmo segreto della prosa, che forma la base di ogni stile personale. Un libro che si sia letto con godimento, inoltre, bisogna assolutamente acquistarlo, anche se non è a buon mercato. Chi non dispone di molti mezzi farà bene, in generale, ad acquistare solo quelle opere che gli siano state caldamente raccomandate da amici molto stretti, oppure quei libri che già conosce ed apprezza e di cui sa per certo che li riprenderà in mano più di una volta in futuro, chi intrattiene un rapporto di familiarità con qualsiasi libro e può leggerlo e rileggerlo e ogni volta trarne nuova gioia e nuovo appagamento, si affidi tranquillo al suo modo di sentire e non lasci turbare la sua gioia da alcuna critica. Vi sono certuni che nulla leggono più volentieri dei libri di fiabe, altri invece che negano e proibiscono la lettura delle fiabe già ai loro bambini. La ragione sta sempre dalla parte di chi, non ubbidendo ad alcuna norma o modello prestabilito, darete al sentimento e all'esigenza del suo cuore. Poco o nulla si legga di commento ai grandi come Shakespeare, Goethe e Schiller, almeno finché non li si sia conosciuti dalle loro opere stesse. Leggere troppe monografie e biografie offusca sovente il meraviglioso godimento che ci viene dal conoscere, mediante la lettura delle sue opere, l'intima essenza di un uomo, dal forgiarsene direttamente un'immagine. E accanto alle opere non ci si lascia sfuggire le lettere, i diari, i dialoghi, per esempio di Goethe. Laddove le fonti sono tanto vicine e facilmente accessibili, non è lecito ricorrere a ragguagli di seconda mano. In ogni caso, delle biografie, se leggono solo le ottime. Di pessime, se ne ha legioni. Grazie. Grazie.